Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Archisax Podcast, il più bel podcast di architettura che potete trovare su YouTube. Era da un po' che non iniziavo una puntata dandovi il benvenuto in questo modo e oggi ho deciso di aprire così perché questa puntata in qualche modo segna un nuovo inizio, o meglio, una nuova tipologia di ospite che vorrei rendere sempre più presente in queste chiacchierate. Di chi si tratta? Beh, per spiegarvelo devo fare un passo indietro. Come alcuni di voi sapranno, un format che è stato molto presente sul mio canale si chiama Architetti Italiani nel Mondo. Si trattava di chiacchierate con giovani architetti italiani che vivono e lavorano all'estero e che mi raccontavano la loro esperienza. Architetti Italiani nel Mondo ha aperto una serie di finestre sulla professione di architetto all'estero. È stato molto interessante, anche per me. Architetti Italiani nel Mondo, però, in maniera forse inaspettata, ha creato anche una domanda, un interrogativo, che in maniera molto spontanea in tanti mi hanno rivolto, e cioè, e in Italia? La mia risposta è sempre stata che in Italia, secondo me, c'è molto talento e ci sono diverse realtà, piccole o grandi, che stanno lavorando davvero benissimo. Questo discorso, però, non ha mai avuto modo di essere approfondito ulteriormente, almeno fino ad oggi. Con questa puntata del podcast, infatti, ci apriamo agli studi di architettura italiani. Sarà un bel modo per conoscere e scoprire cosa succede in Italia, andando alla scoperta degli studi di architettura che secondo me sono i più bravi, i più brillanti, e anche quelli con qualcosa a insegnare. Se ti viene in mente qualche studio di architettura che ti piacerebbe conoscere attraverso questo podcast, fammelo sapere nei commenti del video. Oggi partiamo col botto. Ti do qualche indizio. Vediamo. Milano, studio di architettura fondato nel 2000, cresciuto tantissimo negli ultimi dieci anni. Studio di architettura famoso per gli headquarter aziendali, ma in realtà molto attivo anche in ambito di masterplan urbani e residenza, tanto per citarne un paio. Uno studio che, in ogni progetto, senza mai ripetersi, riesce a dare forno a una visione. Beh, mentre ci pensi, credo sia il caso di andare. Dobbiamo andare a conoscere la magnifica realtà di Parca Associati, anche perché ci stanno aspettando. Ed è oggi con noi Matteo Rietti di Parca Associati. Matteo, ciao, benvenuto e grazie tantissime a te e a tutti voi per aver accettato il mio invito. Ciao Luca, un piacere e grazie a te per averci invitato. È davvero un piacere. Ho tantissime domande da farvi, potrai immaginare. Secondo me alcune domande resteranno fuori, ma chissà, potrebbero anche essere oggetto di una seconda chiacchierata. Intanto andiamo con ordine. Pensavo, quando preparavo questa puntata con te, che è sempre abbastanza facile sapere quando si tratta di un personaggio interessante, di uno studio di architettura interessante, di uno scrittore interessante, è abbastanza facile sapere che cosa fa e di che cosa si occupa. Mentre invece una cosa che mi fanno spesso notare anche le persone che mi seguono è che è molto difficile ricostruire qual è il percorso che l'ha condotto a fare ciò che fa. Tu sei il coordinatore del reparto ricerca di Parca Associati, quindi è una cosa estremamente specifica, estremamente interessante. Ed è proprio uno di quei lavori, una di quelle occupazioni per cui sono tanto curioso di sapere qual è il percorso che ti ha condotto lì. Ma allora, guarda, partirei dal dirti che non ho scelto questo mestiere da piccolo, non ho mai avuto il sogno di fare l'architetto ed è una cosa che mi sono ritrovato a fare un po' per caso. Dopo la maturità scientifica ho scelto la facoltà in maniera forse un po' sconsiderata, poco attenta, poco pensata. E devo dirti anche che all'inizio non era una cosa che mi entusiasmasse più di tanto, nel senso che il primo anno l'ho concluso senza brillare più di tanto, non mi ha diciamo convinto da subito il tema. Io frequentavo il Politecnico di Torino e ho cominciato ad appassionarmi alla materia andando avanti con il percorso di studi. In particolar modo durante la magistrale, quindi proprio diciamo alla fine del percorso, nella seconda metà del percorso, mi sono reso conto che effettivamente era un mondo che poteva interessarmi e quindi ho cominciato ad appassionarmi di più, soprattutto a studiare di più, inteso come il fatto che comunque l'architettura è un mestiere talmente vario e talmente vasto che riuscire a capirci qualcosa ha la necessità di avere una cultura abbastanza importante, quindi di studiare tanto e quindi appunto è avvenuto soltanto poi nella seconda parte della mia carriera universitaria. Mi sono lavorato con una tesi, con uno studio straniero ad Amsterdam, sono andato ad Amsterdam per un po' a elaborare la mia tesi in azienda e dopodiché ho cominciato il mio percorso professionale in realtà all'estero, sono partito per la Francia dove ho lavorato per un po' di anni, circa due anni e mezzo e poi soltanto nel 2018 sono poi rientrato in Italia e da qui diciamo è cominciata l'avventura da Parc Associati con cui collaboro da ormai quattro anni e mezzo più o meno e dove ho iniziato diciamo come progettista, come architetto, cosa che continuo a fare anche se la maggior parte del mio tempo adesso è dedicato al tema della ricerca, a Parc Plus, al fatto che comunque lo studio si è impegnato anche in questo campo. Mi sono ritrovato a fare l'architetto, a lavorare come progettista all'inizio, dopodiché mi sono man mano specializzato nella componente di ricerca e appunto ho cominciato a lavorare più a tempo pieno su Parc Plus. Guarda, mentre parlavi mi venivano in mente due cose che sono estremamente attinenti ai temi di questo canale. Intanto mi fa molto piacere il fatto che anche tu sia stato un architetto italiano nel mondo, che questo è il nome del format di interviste che io sto portando avanti per avere una ricognizione diciamo globale sulla situazione degli architetti italiani che vivono e lavorano all'estero. E mi fa molto piacere che tu da architetto italiano nel mondo sia rientrato, questo davvero è una cosa che è capitata anche a me, quindi devo dire che da questo punto di vista ritrovo un percorso simile a quello che ho fatto io, ma simile a quello che stanno facendo in tanti e quello che vorrebbero fare in tanti. A dimostrazione del fatto che le opportunità ci sono anche da noi e per chi è in grado di coglierle, in casi come questo l'esperienza all'estero diventa un valore, cioè è qualcosa che poi davvero si può riportare a casa e mettere a frutto nel modo migliore. L'altra cosa è che, guarda, anche per me è stato veramente simile l'appassionamento all'architettura, è stato un processo abbastanza lento. Io credo che ci siano forse altre persone, che a questo punto non siamo ne io né te, che partono con un amore, diciamo, fulgorante. Esatto, esatto, partono subito così. Mentre invece, guarda, io credo che sia una storia molto bella quella di poter dire che è una passione che è nata col tempo, con la dedizione, perché tu dicevi giustamente l'architettura è un campo così vasto che necessita di tempo anche per capire uno in che direzione si vuole orientare. Qual è il livello minimo di cultura per poter dire se l'architettura mi interessa? E tutte queste cose richiedono tempo. Per me è stato così, per te è stato così e mi fa molto piacere sia... insomma, ci accomuni questa cosa perché effettivamente credo che sia così per tanti e non deve preoccupare se magari ai primi anni di studi, siccome tante delle persone che mi seguono sono molto giovani, non arriva da subito questo interesse, non arriva questa passione, ci vuole pazienza e un passo alla volta. Uno, secondo me, ha la possibilità anche di scoprire all'interno dell'architettura qual è l'ambito per cui è più portato, per cui è più portata. Ma torniamo a noi perché c'è una cosa che, insomma, non vedo l'ora di esplorare con te ed è davvero è davvero venuto il momento di farlo perché quando si parla di studi di architettura solitamente, siccome noi da architetti produciamo progetti, la tendenza è quella di parlare subito dei progetti di uno studio. Nel vostro caso, a maggior ragione, sarebbe davvero una domanda golosissima. Però in realtà io stavolta ne vorrei fare un'altra, in parte per quello di cui ti occupi tu, in parte perché secondo me il vostro studio nell'ambito della ricerca davvero ha tanto da raccontare e la ricerca di parchi associati è qualcosa che mi incuriosisce molto ed è davvero la domanda che non vedo l'ora di farti. Quindi raccontami un po' come funziona la vostra ricerca, come siete organizzati da questo punto di vista e che obiettivi ha, insomma, come funziona? Allora, diciamo che lo studio ha da sempre una cifra che lo contraddistingue ed è proprio quella della sperimentazione e della ricerca, nel senso che lo studio ormai ha un'esperienza ventennale, ma fin dall'inizio ha sempre, è sempre, diciamo, stato molto attento a coltivare questa buona abitudine, perché secondo me è così che potrebbe essere definita questa tematica. Ed è una cosa che si vede molto in realtà nei progetti iniziali dello studio, che poi è rimasto come filo conduttore anche nei progetti più nuovi, più contemporanei. Quindi è una modalità con cui lo studio si è sempre confrontato. Park Plus nasce nel 2019, quindi ormai qualche anno fa, con l'intenzione di sistematizzare un po' questa attitudine. Quindi di fatto è un'idea che è partita dal basso, se così vogliamo dire, da un'idea mia e di altri due ragazzi che lavorano con me, che sono Michele Versace e Andrea Riva, con cui abbiamo fondamentalmente proposto ai partners e agli associati di provare a partire con questo gruppetto che si occupasse principalmente di quest'ambito. Per cui all'inizio abbiamo avuto un approccio molto artigianale, tra virgolette, nel creare questo piccolo laboratorio, mettendoli in piedi da zero, quindi capendo che spazio dello studio poteva essere utilizzato, come poteva essere in qualche modo messo in piedi un po' il tutto. Abbiamo cercato di capire che strumenti mancassero, di che cosa avessimo bisogno. Abbiamo fatto un po' il setup della cosa. È stato molto interessante vedere la risposta molto positiva, sia dei partner che degli associati, che hanno comunque sempre creduto nel progetto e hanno sempre dato, come dire, molta linfa vitale alla cosa. Quindi l'inizio è stato un inizio appunto programmatico, in cui ci siamo messi un po' a regime. Abbiamo cercato di capire come strutturarci anche a livello di organizzazione interna, quindi come far funzionare dal punto di vista delle risorse questa cosa. Per cui inizialmente io, Michele e Andrea lavoravamo non a pieno regime su PLUS, ma come, diciamo, figure più di coordinamento. E c'erano invece altri ragazzi che lavoravano al 100% su PLUS. Ed è una cosa importante, soprattutto nella misura in cui è raro, diciamo, che uno studio si esponga garantendo comunque delle risorse dedicate a questo tipo di attività. Quindi abbiamo impostato il team e siamo partiti. Siamo partiti con l'idea di provare appunto a creare una sorta di posto, chiamiamolo banalmente così, in cui fosse possibile elaborare conoscenza da poter poi utilizzare all'interno dei progetti quando fosse opportuno. Quindi abbiamo, diciamo, lo abbiamo definito come gruppo di ricerca applicata, se così vogliamo dire, però di fatto forse anche il termine ricerca è un termine magari che sconfina più in ambito accademico, quindi di fatto era più un gruppo di sperimentazione, di generazione di idee, di brainstorming per capire quale potessero essere delle cose interessanti da sviluppare nello studio. che magari non erano in fase di sviluppo in quel momento, o quali potessero essere invece i progetti già in corso che potevano ricevere un'accelerata o in cui poteva essere trovato un qualcosa di più particolare da sviluppare, diciamo così. Per cui, per farti degli esempi concreti, abbiamo avuto, non lo so, per esempio la possibilità di lavorare direttamente in alcuni concorsi come cellula appunto separata che andava a analizzare alcuni argomenti che altrimenti sarebbero o rimasti indietro o non avrebbero ricevuto magari per necessaria mancanza di tempo, perché purtroppo il mestiere è così, nel senso che le deadline sono serrate, quindi è molto difficile riuscire a disaccoppiare i tempi del lavoro che sono serrati, dei tempi della ricerca che invece sono sempre dilatati e necessitano un procedimento abbastanza a singhiozzo di tentativo ed errore, proprio per chiarirsi le idee su cosa possa funzionare e cosa no. Quindi abbiamo cominciato a lavorare staccati, diciamo, dal team principale. Per farti un esempio, abbiamo lavorato su un concorso per la progettazione di un auditorium a Billnews, in cui abbiamo fondamentalmente approfondito il tema acustico della progettazione di due sale da concerti, tema che altrimenti probabilmente non sarebbe stato, diciamo, non avremmo avuto il tempo di approfondire se non tramite PLUS. Quindi abbiamo lavorato con uno studio madrileno specializzato in acustica che ci ha permesso di andare a configurare sia compositivamente, quindi dal punto di vista della progettazione architettonica, che tecnicamente dal punto di vista acustico, la miglior configurazione che ritenevamo essere, diciamo, più corretta, vincente, per entrambe le sale. È stato bello anche, appunto, lavorare su due sale differenti, perché abbiamo lavorato su una sala da concerti, diciamo, più standard, è una sala da musica da camera più piccolina, più raccolta, anche diversa nell'impostazione sia della fruizione del suono, quindi banalmente del posizionamento di chi ascolta, e della sala in sé per sé, sia dal punto di vista del comportamento, poi, che devono avere le onde sonore. Questo per farti un esempio, appunto, di una delle prime cose che abbiamo fatto. Certo. Altra cosa, per esempio, è stato il contributo su un concorso per un progetto di, sempre una competition, per la progettazione di un centro di genetica, in cui abbiamo cominciato ad approfondire il tema legno, quindi strutture in legno, scusami, che poi, di fatto, è diventato una pubblicazione, no? Quindi, è inizialmente partito tutto come supporto al team di progetto per la questione strutturale, quindi l'impostazione, diciamo, appunto, strutturale dell'edificio in legno ingegnerizzato, in CLT, Lulam, eccetera, che poi ha portato a un'elaborazione ulteriore del lavoro, della ricerca, che si è trasformato poi in un percorso di due anni, lungo, intenso, in cui abbiamo condiviso il lavoro con Bollinger & Groman, che è uno studio di architettura tedesco, che ci ha supportato lungo tutta, diciamo, la ricerca, appunto, il lavoro, e con cui abbiamo deciso di produrre un documento, quindi del materiale, inizialmente solo per lo studio, ma che poi, come dire, ci siamo resi conto potesse essere interessante anche mettere fuori, che è diventato quindi poi una pubblicazione, in cui abbiamo trattato il tema delle strutture in legno e di come potrebbero, in qualche modo, entrare in maniera più consistente all'interno dello sviluppo immobiliare italiano. Purtroppo abbiamo ancora un po' di remore nell'adottare questo tipo di tecnologia che in realtà altrove è già ampiamente sdoganata, e quindi l'obiettivo era proprio creare del materiale che sfatasse alcuni miti che gravitano attorno a questa tecnologia costruttiva, permettendone un'adozione più massiccia, ecco. Certo. È stata un'esperienza molto interessante, diciamo che dà un'idea di quello che potrebbe essere il funzionamento base di D-Plus. Poi facciamo anche altre cose, nel senso che comunque Park Plus è di fatto un esperimento in sé per sé, nel senso che è un gruppo che si evolve, che è cambiato anche nella sua struttura in questi anni. Per esempio, inizialmente avevamo pensato che potesse essere più corretto avere delle risorse dedicate soltanto alla ricerca, invece ultimamente ci siamo resi conto che si perdeva un sacco di potenziale non coinvolgendo anche il resto delle persone che lavorano da parco associati, che possono avere idee, possono avere desiderio di approfondire alcuni temi e che quindi possono tranquillamente proporli e salire a bordo e lavorare su alcune tematiche che tutti quanti riteniamo che possono essere interessanti per lo studio. Guarda, questo è davvero molto interessante perché ho ricevuto, grazie a voi, e ne approfitto anche per ringraziarvi, il libro di cui mi parlavi sulle costruzioni in legno e secondo me, al di là dell'interesse dei contenuti e di quanto l'ho trovato chiaro, fatto bene, curato nei dettagli, curato nei contenuti, nell'impaginazione, quindi al di là di quello, secondo me, è anche un po' un piccolo manifesto di come si può integrare la sperimentazione e la ricerca nella professione quotidiana perché ti voglio raccontare questa cosa. Negli ultimi, diciamo, due anni, da quando ho il canale YouTube, da quando ho aperto questo canale in parallelo alla mia professione di architetto, ho avuto la fortuna e l'occasione, in parte ricercata, in parte anche nata spontaneamente, di entrare in contatto con tantissime realtà, con tanti studi di architettura italiani e esteri. E questa è una bellissima occasione perché si può parlare, si può fare domande, soprattutto domande, si possono scambiare idee. E siccome io mi ritengo un architetto praticante, ma un rompiscatole davvero talentuosissimo, cioè sono proprio cintura nera di testonaggine e rompiscatole, io, quando ho la possibilità di parlare con uno studio di architettura che non conosco, più o meno faccio sempre le stesse domande. E una domanda sulla ricerca io la faccio sempre, per capire un po' qual è l'aria che tira, qual è l'idea che c'è, no? E allora, da questo punto di vista, la risposta che mi sento dare davvero molto spesso è una cosa come se tu... L'hai detto anche tu prima, no? Come se la ricerca fosse una cosa accademica, una cosa un po' universitaria, un po' scollegata. Ho sentito spesso, anche architetti abbastanza noti, dirmi ma sì, la ricerca, però poi alla fine sai, il lavoro ha altri tempi, bisogna correre, bisogna andare, la ricerca, ma come si fa a metterla poi insomma, in concreto, come si fa a metterla davvero in pratica. Ecco, io credo che uno dei motivi per cui valga davvero la pena stare vicino, perlomeno come interesse, a Parc Associati sia proprio la capacità che avete avuto, anche grazie a te, anche grazie ai colleghi di cui mi parlavi prima, di davvero inserire la ricerca nei meccanismi del lavoro quotidiano, che sia un concorso, che sia una pubblicazione, cioè c'è un'attività divulgativa, ovviamente, ma c'è anche un'attività proprio da progettisti veri, alla fine, sai, dopo il confine fra progettista e ricercatore, come giustamente mi spiegavi, diventa molto più sottile ed è bello anche coinvolgere persone che magari nella maggior parte del tempo si dedicano a progettare, che però nell'ambito della ricerca possono dare un contributo. Ed effettivamente la risposta che mi dai, la risposta che colgo, quella che ho appreso anche dal libro, è che effettivamente fra progetto e ricerca c'è un filo diretto, ma fa professione, e ricerca. E tutte le volte che ho sentito dire che sì, boh, sarebbe bello fare ricerca, però in realtà non c'è modo di farlo, peccato, sono occasioni sprecate che mi state cogliendo molto bene. No, 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 ma allora io capisco perfettamente quello che dici, nel senso che comunque è un processo faticoso e in cui bisogna esporsi molto e soprattutto bisogna essere tenaci nel continuare a rinnovarsi e a stare sul pezzo per continuare a farlo. Quindi purtroppo è vero anche quello che portano sul piatto altre persone, il fatto che è molto complesso dire ok, sto dietro a tutto, soprattutto quando appunto i tempi si comprimono sempre di più, inevitabilmente, e qualche pezzo si perde in un modo o nell'altro. La cosa buona secondo me è proprio quello con cui abbiamo iniziato la risposta a questa domanda, il fatto che lo studio di per sé nasca con quell'attitudine e che in qualche modo un'altra cosa molto importante per Parc è la formazione, una cosa di cui magari non abbiamo parlato ancora direttamente, però le persone che sono qua da tanto tempo sono state molto brave a trasmettere la cultura Parc e come lavoriamo noi, come è il modo di intendere la professione che si ritrova all'interno del nostro studio e quindi di conseguenza partendo con una forma mentis in cui questa cosa accade è più facile effettivamente continuare in quella direzione lì. Poi sì, lo sforzo continuo c'è, nel senso che comunque bisogna bisogna effettivamente riuscire a tenere un po' le fila dei vari discorsi che si intraprendono, soprattutto perché purtroppo è facile scoraggiarsi, nel senso che alla fine quando uno lavora su tematiche che magari non conosce molto bene, inizia ad approcciare per la prima volta, magari su cui anche c'è poca bibliografia, ci sono poche best practice, ci sono pochi progetti a cui fare riferimento, si imboccano dei rami, diciamo dei sentieri che poi non sono percorribili. Riuscire a non scoraggiarsi è effettivamente faticoso, ma è anche poi la cosa bella, perché poi quando imbrocchi quello giusto ti dà soddisfazione. Sì, 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 tanta, tanta soddisfazione. Guarda, abbiamo messo insieme, secondo me, abbiamo messo sul tavolo, diciamo così, una serie di tasselli che con una domanda mi piacerebbe provare a riunire per vedere che cosa ne viene fuori, oltre al fatto che sono curiosissimo di chiedertelo, e quindi questo sicuramente è il motore della prossima domanda. Abbiamo parlato di ricerca, sperimentazione, della pubblicazione di questo libro, di come vi siete organizzati anche per portare avanti ricerca, progettazione e concorsi. Ma, ecco, se tu mi dovessi dire, secondo te e anche secondo voi per l'area che respiri in studio, come si potrebbe definire, secondo te, la buona progettazione? Certo, abbiamo già messo lì alcuni tasselli, no? Ricerca, pazienza, passione, tutte queste cose, ma se tu dovessi anche così immaginarti e provare a raccontarci per te e per voi che cos'è la buona progettazione, come la potresti raccontare? Allora, è una buonissima domanda che è una risposta, secondo me, molto difficile, nel senso che proprio partendo da quello che abbiamo detto all'inizio, il fatto che l'architettura sia molto varia e ci siano molti modi di poterla declinare, è difficile riuscire a dirti effettivamente cosa possa essere inteso come buona progettazione. quello che noi tendenzialmente raccontiamo quando parliamo di noi a chi non ci conosce all'esterno è che lo studio in qualche modo ha trovato tre parole importanti con cui si descrive e che descrivono il modo di fare l'architettura di parchi associati che sono ascolto, intuizione e sperimentazione direi che della sperimentazione ne abbiamo parlato quindi l'idea che in qualche modo il testarsi e il testare cose nuove sia sicuramente una modalità per non ripetersi e per riuscire a trovare il modo di evolvere il proprio linguaggio e il proprio modo di progettare. Le altre due parole di cui non abbiamo ancora parlato che sono ascolto e intuizione sono altrettanto importanti in particolar modo cominciare dalla parola ascolto e da come decliniamo il termine ascoltare è una parola che si rifà un po' all'essere in grado di interpretare tutta una serie di input ma anche di vincoli che provengono dall'esterno e per esterno intendiamo diverse cose intendiamo sicuramente la parte di persone che lavorano con noi i nostri clienti le persone diciamo tutta la componente di consulenti che ci aiutano a sviscerare poi tecnicamente il progetto entrando proprio nel vivo della della progettazione stessa così come vincoli e input diciamo fisicamente esterni come vincoli urbanistici problematiche legate purtroppo sempre di più al climate change a tematiche ambientali ma anche a diciamo la capacità di interpretare la l'identità anche di chi lavora con noi che poi alla fine se vuoi è il modo migliore per non ripetersi mai essere in grado di differenziarsi cambiando in maniera un po' maleontica in base a come cambiano le condizioni del contesto è molto raro che un architetto si ritrovi a progettare sempre nello stesso posto anche la stessa città come Milano noi siamo molto attivi su Milano presenta casistiche progettuali sempre diverse tra di loro e quindi automaticamente diventa fondamentale essere in grado di ascoltare ciò che ti circonda per calarti in maniera coerente rispettosa pertinente anche nel posto in cui in cui vai a lavorare e sicuramente in questo caso poi entra diciamo un po' a gamba tesa anche il termine intuizione che fa da collante un po' alle prime due parole ascolto e sperimentazione le prime due di cui abbiamo parlato l'intuizione è un po' in mezzo ed è diciamo la la scintilla se vuoi che ti permette di attivare al diciamo di più che altro di trovare una uno sbocco al a tutto il ragionamento analitico che hai fatto in precedenza ragionamento analitico sperimentale quindi di ricerca ragionamento analitico di lettura del contesto del cliente e delle condizioni del contorno di cui abbiamo parlato canalizzato reso progetto perché poi alla fine di fatto produciamo oggetti architettonici quindi l'intuizione ti permette di catalizzare le due energie e di materializzarle all'interno di un qualcosa che appunto abbia la capacità di connotarsi dal punto di vista linguistico linguistico progettuale e dal punto di vista dell'interpretazione del tempo in cui vivi certo beh guarda una risposta veramente fantastica e mi fanno molto riflettere questi tre termini ascolto sperimentazione intuizione ma sai perché più che altro perché quando ho incominciato questa questa chiacchierata quando abbiamo incominciato questa questa puntata ma anche prima io ho detto che per me la vostra realtà vista da fuori è progetto ricerca e comunicazione e devo dire che se adesso vogliamo arrivare verso il tema della comunicazione siamo in chiusura di questa chiacchierata non c'è spunto migliore perché i tre punti che mi hai citato tu che per voi definiscono la buona progettazione tu mi raccontavi una logica interna vostra cioè ciò che per voi definisce la buona progettazione la cosa secondo me molto significativa è che questi concetti si vedono anche all'esterno cioè chi guarda i vostri progetti chi vi segue chi cerca di studiarvi coglie queste stesse cose poi magari non le traduce esattamente con questi termini ma conoscendo le vostre architetture e sentendoti raccontare questa cosa c'è una coerenza perfetta e secondo me questo al di là del fatto che siete molto bravi è anche dovuto a un'ottima comunicazione un'ottima comunicazione che io apprezzo tantissimo che trovo sia online che offline quindi nel senso sia sul sito sulla pagina instagram avete un canale youtube a cui lavorate che è un'altra attività molto impegnativa che richiede molta pazienza ma che testimonia del vostro impegno di comunicare in maniera sincera in maniera vera quello che fate e le qualità del vostro lavoro e secondo me questa è una direzione molto interessante da cui in tanti devono prendere spunto anche molto più piccoli di voi perché io ovviamente parlo anche ad architetti che magari lavorano singolarmente quindi non hanno come si dice la vostra potenza di fuoco ovviamente ma il tema della comunicazione è fondamentale perché quando quelli che sono i valori che muovono la tua progettazione si riscontrano anche all'esterno nel modo in cui tu ti poni verso l'esterno nell'immagine che dai all'esterno allora si sta comunicando bene e siccome voi secondo me siete un riferimento in ambito di comunicazione di architettura e del vostro lavoro a me piacerebbe chiederti per lasciarla proprio impressa in questa chiacchierata perché potrà essere un valore anche un domani per tutti quelli che vorranno vederla secondo te un architetto uno studio di architettura oggi come può comunicare bene il proprio lavoro allora è curioso che tu abbia detto che alcuni studi più piccoli debbano in qualche modo guardare a noi per diciamo per essere incentivati a lavorare sulla comunicazione perché noi quando abbiamo cercato di dare il boost diciamo il giro di boa al tema della comunicazione siamo proprio partiti dallo studiare noi studi più giovani più diciamo più nuovi più piccolini anche che però fanno una comunicazione sensazionale diciamo che anche in questo caso lo studio ha sempre cercato di stare attento a come come racconta il proprio lavoro sicuramente negli ultimi dieci anni il tema comunicativo un po' per i social questo sì sicuramente ma un po' perché in generale tutto si è spostato da quel punto di vista lì verso una direzione nuova è diventato ancora più importante quindi se prima magari lo studio era molto attivo con pubblicazioni legate all'editoria riviste e diciamo più legate al mondo della carta se così vogliamo dire comunque una modalità meno digitale l'accelerazione pazzesca che ha avuto il mondo invece digitale ha necessitato che anche lo studio si evolvesse in questo senso da qui l'idea che i social e la comunicazione diventino uno strumento di racconto di quello che capita all'interno dello studio e di racconto del nostro modo di lavorare anche in questo caso ci tengo a dirlo come per la ricerca perché anche per la comunicazione è così ci sono delle persone dedicate a questa cosa che lavorano su questo tema perché tu stesso che comunque lavori su YouTube lavori con questo tipo di mezzi sai quanto tempo diciamo serve per diciamo confezionare post filmati video audio e anche la conoscenza tecnica che devi avere del mezzo che utilizzi per raccontarti no è un è veramente un mondo diciamo una tana del bianconiglio profondissima un lavoro praticamente esatto lo è è un lavoro è il motivo per cui ci sono dei social media manager ci sono persone che si dedicano a questa cosa qua perché adesso non voglio stare a scomodare magari definizioni troppo grandi però è un po' una scienza no anche la modalità di interpretare poi i dati che raccogli da chi ti segue capire quando può stare come può stare come lavorare anche dal punto di vista brutalmente tecnico su questa cosa qua è importante però per tornare magari di più alla parte più poetica meno numerica sicuramente la cosa bella è che in studio anche proprio per desiderio diciamo come trend generale le persone che lavorano qua che entrano qua sono quasi sempre persone che hanno tanti talenti e tante passioni parallele all'architettura ed è stato il motivo per cui proprio parlando tutti insieme condividendo dialogando riguardo questo tema ci si è ritrovati ad avere il know-how per riuscire in qualche modo a fare lo step successivo e intendo know-how su tanti punti di vista il punto di vista appunto della conoscenza banalmente del mezzo comunicativo la capacità di girare video di fare diciamo di fare della fotografia uno strumento affilato con cui raccontarsi la capacità di mettere insieme anche la componente musica se vuoi del racconto che comunque fa parte dello studio e quindi creare diciamo un cerchio di attività che lavorano sinergicamente per restituire la sfaccettatura che è di fatto poi la vita all'interno dello studio è molto divertente e soprattutto è anche molto importante ecco stiamo cercando appunto come dicevi tu di diversificare ancora siamo molto attivi su LinkedIn che è sicuramente uno degli strumenti più consoni perché comunque di fatto bisogna anche poi stare attenti a camminare su un rasoio particolare perché fare comunicazione e cercare di spingere da quel punto di vista lì è sempre un po' un capire dove sei coerente con te stesso dove invece cominci a non esserlo più e a sconfinare magari in un mondo che di fatto non ti appartiene e quindi di conseguenza fa storcere il naso e quindi riuscire a essere centrati sull'obiettivo quindi raccontarsi in maniera fresca anche se magari il termine non è propriamente corretto senza però risultare poco coerenti con se stessi è importante quindi LinkedIn sicuramente uno strumento importante Instagram lo è assolutamente YouTube è un mondo nuovo per noi quindi di fatto è anche raro in realtà tu sei uno di pochissimi canali tra l'altro che tratti di architettura in Italia e purtroppo il mondo architettura su YouTube è un po' indietro almeno la mia percezione qui mi svincolo dall'opinione di tutti la mia percezione personale è che sia un po' indietro e che sia difficile trovare contenuti a riguardo anche di studi molto importanti molto grandi e invece potrebbe essere interessante da approfondire così come anche il tema audio che secondo me adesso sta andando fortissimo grazie alla rivoluzione podcast potrebbe essere sicuramente una cosa approfondibile molto interessante assolutamente assolutamente che bella risposta guarda mi hai mi hai gasato ulteriormente non ce n'era bisogno ma mi sono gasato ancora di più veramente adesso riapro un altro canale basta Matteo guarda l'unico peccato è che siamo in conclusione di questa chiacchierata che io porterei avanti tantissimo ma siamo verso la la fine purtroppo ma c'è un'ultima domanda che sta diventando una domanda fissa che io inizialmente ponevo per curiosità sincera come tutte le domande che faccio però adesso siccome le puntate del podcast pian piano vanno avanti mi sto rendendo conto che chi lascia la propria diciamo l'ultima domanda che si chiama i consigli finali ecco chi lascia il proprio consiglio finale sta andando a comporre un mosaico che nella mia visione un giorno sarà preziosissimo perché immaginati tutti gli ospiti con cui ho la fortuna di parlare alla fine mi raccontano qualcosa di un pochino più loro quali sono le loro passioni quali sono anche i testi che li hanno formati la musica citavi anche la musica i film la parte artistica e quindi alla fine io sono davvero ancora più contento di raccogliere tutte queste testimonianze perché un giorno ci farò un video dedicato dove racconterò tutti i consigli dei miei ospiti e quindi naturalmente ci saranno anche i tuoi motivo per il quale io ti chiedo innanzitutto dei consigli di lettura se ne hai e se c'è qualcosa di interessante che puoi suggerire alla mia community a tutti quelli che seguono magari di libri che sono stati importanti per te che sono in qualche modo collegabili a quello che fai ma anche in senso diciamo più esteso e siccome il tuo lavoro è probabilmente molto legato alle contaminazioni fra saperi diversi la vostra realtà in generale è una realtà di contaminazione di saperi diversi ce l'hai dimostrato molto bene in questa chiacchierata estenderei la domanda dei consigli anche all'ambito cinematografico all'ambito musicale insomma tutto quello che come professionista come persona ti ispira ti ha formato e ti piace particolarmente e che ovviamente vuoi lasciare qui a noi allora guarda mi cogli un po' impreparato sulla questione libri devo ammettere con grande vergogna che non sono un avido lettore quindi ok diciamo che la cosa da questo punto di vista la cosa più interessante che ho letto ultimamente non è un libro non è un romanzo ma è un graphic novel spero che conti lo stesso proprio perché io sono un po' più appassionato alle arti visive alla fotografia all'immagine diciamo e ho trovato nella dimensione del graphic novel un modo interessante per non perdere completamente l'abitudine di leggere ma allo stesso tempo fare due cose contemporaneamente è un graphic novel che si chiama Electric State di Stalenag che tra l'altro poi è il diciamo l'artista da cui è stata tratta la serie Tales from the Loop che lavora molto sul tema distopico io sono un po' un pessimista un po' un tristone per cui indugio spesso sul tema distopico e sulla fantascienza e questo graphic novel è molto bello mi è piaciuto molto è molto interessante però è molto breve quindi non svelo niente sulla trama perché sennò finirei per raccontare come finisce e poi come dicevi tu in realtà a me piace tantissimo divagare perché un po' per mia curiosità personale un po' perché credo che comunque per il nostro mestiere sia una condizione assolutamente fondamentale proprio perché per la varietà di temi che si possono trattare e soprattutto perché l'ispirazione anche per questioni architettonico può essere trovata spessissimo anche nel cinema e anche in arti più immateriali come può essere la musica appunto le arti visive sul cinema come ti dicevo sono appassionato di fantascienze per cui a me piace molto Denis Villeneuve per cui non consiglio Blade Runner 2049 perché sarebbe troppo banale per cui un film che mi è piaciuto molto suo e che è interessante perché parte dalla letteratura perché è l'adattamento di un romanzo di José Saramago e sconfina tantissimo nell'architettura è Enemy che è un film secondo me interessante perché di fatto è un film diciamo un film sull'inconscio mascherato da da Psychothriller un po' mindfuck che confina l'aperto che non si capisce bene a che cosa voglia puntare cosa voglia dirci il regista però è molto bello perché appunto è un viaggio all'interno dell'inconscio di un di un protagonista un po' disfunzionale diciamo così ma che è ambientato in una Toronto secondo me fotografata benissimo nel senso che la fotografia è una delle cose che io guardo di più nei film e lì è veramente secondo me molto bella te lo dico da profano e quindi non da purtroppo da tecnico è una cosa che a me è piaciuta tantissimo la rappresentazione dell'architettura come in quel caso lì estremamente oppressiva cioè fa da sfondo un po' il disfacimento un po' della cifra architettonica dello spazio che sembra quasi collassare un po' addosso al protagonista fa da sfondo appunto al dramma interno che vive quindi il filtro usato è molto seppiato tutto molto giallognolo quasi a come dire sottolineare un po' un'infezione che è in corso nella mente di questa di questa persona molto spesso le inquadrature sono fatte in modo che sembra quasi che diciamo gli edifici sembra che cadano addosso ai protagonisti è una situazione molto particolare è un bel trip ecco cioè se si è in vena di pensare un po' e soprattutto poi di discutere un'ora e mezza su come finisce è il film giusto chiudo se vuoi con un'ultima con un ultimo riferimento che in realtà non è di fatto un consiglio ma è o forse sì perché comunque ha prodotto tantissimo materiale ma è un po' un omaggio se così vogliamo a Vergil Ablo che secondo me è un personaggio interessantissimo proprio perché ha un background da architetto anche da ingegnere in realtà perché lui ha studiato all'Illinois Institute of Technology inizialmente come ingegnere ed è un po' secondo me l'incarnazione un po' contemporanea della trasversalità che il nostro mestiere richiede del pensiero orizzontale che gli è proprio e poi soprattutto del fatto che in qualche modo ti apra un sacco di porte la cosa che mi ha convinto dopo un'iniziale titubanza a amare di fatto l'architettura è proprio secondo me la quantità di porte che ti apre io credo che tutto di fatto sia progetto dal foglio Excel di un fondo di investimenti a un edificio però quello che sta dietro a ogni tipo di output che uno mette nel mondo è un progetto e di fatto l'architettura ti insegna a gestire quel flusso di pensieri di problemi di crisi che che devono essere risolte per arrivare appunto a un output a un output funzionale che sia legato all'architettura che sia legato legato alla moda per me personalmente non fa troppa differenza ci vedo un po' la stessa matrice ed è un po' secondo me quello che quello che incarna il lavoro di Vergil Ablo che è stato trasversale in tutto quello che ha fatto perché ha lavorato in ambito architettonico in particolar modo in interior design ha lavorato tantissimo nell'ambito del fashion ha lavorato in ambito musicale ha lavorato in ambito delle arti visive delle installazioni delle mostre purtroppo nella sua breve carriera ha spaziato tantissimo e secondo me ha dato tantissimi diciamo impulsi per l'evoluzione di secondo me di un mestiere che è un po' in crisi cioè che subisce secondo me attacchi costanti un po' da tutti i fronti e che invece ha ancora qualcosa da dire e su cui si può recuperare tanta strada guarda non aggiungo niente perché sono talmente allineato con quello che hai detto che non posso che ringraziarti perché è una risposta straordinaria non voglio aggiungere niente colgo però l'occasione per ringraziare non solo te che sei stato il mio ospite ma parche associate in generale ancora una volta per aver citato il mio invito e per aver messo a disposizione il tuo tempo e la tua disponibilità oltre che il tuo talento narrativo che secondo me ha reso questa puntata veramente divertente veramente piacevole sono contentissimo di averla registrata ti ringrazio e vi ringrazio ancora e come dico sempre stavolta rivolto a te ti auguro il meglio e spero di vederti presto grazie mille Luca è stato un piacere anche per me a presto ciao ciao